Ciao, sono Jacopo Del Giudice, vengo da Roma in Italia e studio qui la Quest a questo programma chiamato ChatBuddy, il cui io trovo molto utile per la mia conversazione, per migliorare il mio inglese. La conversazione è utile e quindi devo ringraziare la Quest per questo servizio che mi hanno offerto. Ciao!